Allora Esa Noi ti corteggiamo da un po' di tempo Finalmente siamo riusciti ad averci Adesso noi vogliamo sapere una sola cosa da te Qual è il tuo piatto preferito? Le polpette che mi ha fatto la mia fidanzata Prima di arrivare alla diretta Ci vuole una polpetta È grande, qui freestyle la manetta Ti amo Devo dire che con uno dei sensi ho potuto apprezzarle anch'io Perché avendo te accompagnato qua in macchina La prossima volta te ne porto due Grazie, grazie Perché l'odore promette molto molto bene Quindi io faccio tutti i props possibili alle polpette Ah io invece che sono venuta nella macchina Che sapevo di pipì di gatto Bene, è ora di lavarla Ok La prossima volta vengo in macchina con voi Esatto, qual è un sogno che è ancora nel cassetto? Allora, guarda I sogni nel cassetto Sono sempre tanti Anzi Considerando che il sogno è un po' un progetto Che vorresti realizzare Insomma Devo dire Posso dire Posso intanto dire Di avere la fortuna di un sogno nel cassetto Di averlo realizzato Che è il disco L'ultimo che abbiamo fatto con gli OTR Che è uscito da pochissimo Sintonizzati E poi vabbè Un sogno nel cassetto Magari Possibilità di Farne tanti altri Continuare a suonare Con amici vecchi e nuovi Sempre questa bella musica Che tanto mi allieta E invece che cosa sognavi di fare Quando eri da bambino Insomma come ti vedevi da grande Allora guarda Io mi ricordo Che da piccino Sognavo un futuro modesto Cioè Poi in realtà Avevo sempre avuto Velle età artistiche Di ogni tipo Quindi Nonostante i miei Mi abbiano fatto fare studi Contabile Io ho sempre avuto La passione artistica E infatti abbandonai L'università Come cantavo Nella canzone Cene degli OTR Per mettermi a fare musica Perché Esatto Avevo scoperto Questa mia Passione Così Forte Cosa porteresti Sull'isola deserta? Sull'isola deserta Cosa porterei Un disco? Perché no? I Trap Cold Quest Per esempio Così ogni tanto Me li ascolto Poi dopo invece godo Del silenzio Dell'isola deserta Esatto Insomma E se potessi scegliere Invece una città In cui vivere Oggi come oggi Dove andresti? Eh In Braccia e Dope Dio Dio Ad Amsterdam Eh Lì sì È proprio uno dei miei spot preferiti Yes Perché In Nord Europa Molto funky Molto jazz Insomma C'è un bel Un bel humus Per il tipo Di musiche che mi piacciono E invece come Hai diciamo Conosciuto E cominciato a praticare A dare il tuo All'hip hop Correva l'anno Correva l'anno Guarda Il germe è stata La break dance Perché praticamente Era molto famosa Quando io ero piccino Penso in seconda media Seconda e terza media Avrò avuto 14 anni Penso 13 14 anni E la break dance Era famosissima Venivano a ballare Ballerini da tutto il mondo In tutte le trasmissioni In Italia Anche al festival bar Vennero i break machine Quindi diciamo Indubbiamente Non erano I breakers Più Hip hop Della scena Però non forti Comunque contribuirono A portare la cosa Poi ci furono film Sulla danza Sembra un po' Di vedere Il momento attuale Perché poi alla fine Correva l'anno Probabilmente Non so 85 86 Però ancora Non è che si capiva bene Cos'era questo hip hop Nei film Poi potevi vedere Magari I stick che rappava Il DJ che screcciava I graffiti Allora capivi Che c'era una specie Di 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 Senso Di mondo Qual è stato il tuo Primo approccio personale Invece Quando hai iniziato a fare E cosa Noi già ballavamo la break Con i miei amici Il secondo piano Al pianerotolo Pure nei porti Ciclostere Tutti contenti E anzi Guarda Tornerei volentieri A ballare in strada Penso che sia una cosa Che manca un po' Nelle strade italiane La musica in generale Poi In particolare Anche la nostra L'hip hop Perché no Però manca Manca la musica Cioè La sera si spegne Un po' tutto Invece sarebbe bello Magari Se non in tutta La città Perché posso capire Che qualcuno Voglia dormire ogni tanto Però Delle zone Per i ragazzi Con dei posti Però è vero Comunque viaggiando Viaggiando all'estero Nelle città Soprattutto magari Nelle metropolitane Mi vengono in mente Città come Londra Parigi Sono Trovi molto più spesso Musicisti Che si esibiscono Eccetera Invece Le metropolitane italiane Ad esempio Sono più silenziose Perché forse Noi proprio come cultura Tendiamo a essere un po' Più austeri Quindi hai ragione Hai ragione Ci vuole Chiediamo più musica In generale Dai facciamo un po' Di macello per strada Questa è la prima richiesta Di strada Musiche 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 anche localizzate Non per forza Spaccare i maroni A tutto il quartiere Però diciamo Tu vai in quell'angolino lì E c'è uno col suo sound E mette un po' Di bella musica Allora Io direi che ci Prendiamo una pausa Ci andiamo ad ascoltare Andiamo ad ascoltarci un po' Di musica Esatto Esatto Pompiamo Yes Murate Il tuo ultimo video United with Flow Ragazzi Hcb Nella casa Sono ragazzi nuovi Io guarda Tramite il contest di Captain Futuro Che poi magari dopo Raccontiamo dopo Continuo a conoscere Rapper Rapper O almeno Una cinquantina di rapper Sotto la Portettrice Al momento E sono contento Ci sono tanti ragazzi nuovi Che fanno belli pop In Italia Bella lì E tu ritiri in mezzo Dopo ne parleremo Dai Questa è Murate Questa è Murate Da United with Flow Chichetta Esatto Tra l'altro Attenzione Perché United with Flow È solo una delle cose Che in questo momento Stai sfornando Esatto Guarda Questa è una delle più fresche Però La segnaliamo Un disco che ho fatto Dove più che altro Produco Rap Ho anche quella Però Faccio i beat A 20 Tra Più interessanti MC's del momento Tra le cui c'è Mastino Lord Madness Easy One E più delle mie proposte Leon Day Mad Soul Piuttosto che J-Ra Che è un ragazzetto nuovo C'è davvero un sacco di gente Whisky e Stoma Degli Oro Bollente Scarraffone Da Napoli Quanto lavoro c'è? Scarraffone Dopo ce l'andiamo ad ascoltare Quanto lavoro c'è dietro questo progetto? Eh guarda Alla fine infatti Il lavoro è cessato Sono stati Più di sei mesi di lavoro E nel frattempo È uscito il disco degli OTR Quindi io sono diventato Distributore Dei miei vinili Dei miei cd Per tre mesi Postino A tempo pieno Con abbastanza successo Sei riuscito a recapitare Quasi tutto E Però insomma Esatto Il disco è stato fermo Poi è uscito Da pochissimo Da meno di un mese In cd E c'è in formato digitale Sulla mia etichetta Che è una Per lo più una web label Si chiama Captain Futuro E la trovate su Bandcamp Che è il portale Delle etichette indipendenti A livello internazionale Benissimo Ottimo che hai dato anche riferimenti Così Io intanto adesso linko Il tuo portale Sulla nostra pagina Facebook Doppia H streaming Così da lì Poi potete accedere A tutti i download di ESA Colgo l'occasione Per dare anche il numero Degli sms Se qualcuno volesse Farti delle domande 3316214013 Invece ti volevo chiedere Da dove nasce l'idea Di fare da produttore Appunto a personaggi Che stavi annunciando Stavi accennando Prima del pezzo Hai un po' incontrato Nel tuo cammino Tu ascolti molto Ascolti molto la roba nuova Anche Poi li ho anche un po' coalizzati Con il Captain Futuro Contest Dell'anno scorso Dove io ho fatto Ho messo in palio dei beat La gente ha rappato Su questi beat Su internet Mandando un video Registrato in cameretta Con le proprie rime migliori Molti sono stati Cioè Per quanto la vecchia edizione Durata tre settimane di contest Quindi è stata Diciamo un po' Pesina Però ha scovato Un migliaio di rapper L'abbiamo riproposto Anche quest'anno Che solo in una versione Più breve Di una settimana Comunque 300 rapper Ha mandato il video In due giorni E io me li sono smazzati tutti Per cui Con questa iniziativa Che penso sia una delle poche Dedicate all'underground In Italia Underground Come Come Diciamo Hip hop Arte E non E non il pop Commercio E quindi Insomma Spero che sia di stimolo Oltre ai ragazzi Per rappare Ma anche a tanta gente Che vuole dare una mano Magari per creare un portale Per promuovere i gruppi Dell'underground Piuttosto che Dei blog Che supportano Questo tipo di scena Perché Col fatto che Oggi Magari col rap Puoi Diventare milionario Come Grattavinci Insomma C'è un mercato Mainstream Del rap Molto forte Adesso E Si tende un pochettino A trascurare Il lato Di ricerca artistica Di questa cultura Che Per me È più importante Ma forse perché Sono più grandicello Ho messo la testa a posto C'ho finito Bravo Bravo Magari Intanto il messaggio È stato lanciato Per cui se anche qualcuno Tra gli appassionati All'ascolto Hai mezzi E le idee Per iniziare Ad aprire uno spazio Magari proprio dedicato All'underground Insomma Farebbe bene a farlo Farebbe bene a farlo Prima cosa Seconda roba Tu in realtà Grazie a questo contest Di quest'anno E dell'anno prima Sicuramente Hai avuto modo Di tastare un po' Il polso Anche degli pop giovani In qualche modo E sono forti Qualche idea ti sei fatto C'è gente brava E che appunto C'è poco palco Per la poesia In generale In tutto Dovunque E quindi anche nel rap Si patisce un po' Questa roba qua E invece ci sono Tanti ragazzetti bravi Che quindi Ci sedici anni Slegano a dovere E trattano il rap Come una cosa Che già Magari quattro generazioni Di artisti Che se ne sono occupati Quindi È evoluta Pur essendo una cultura Molto giovane Però Contemporanea È una delle scene Insomma Dove si fa musica Si fa poesia Viva Vera Che esiste A livello mondiale Chiaramente Esatto Insomma Deve Un po' Strutturarsi Però la materia Grezza c'è C'è il diamante Bisogna estrarlo Benissimo Allora Parlando di Capitan Futuro Rap Contest Quindi Il tuo contest Dedicato Un po' Alla scoperta Di nuovi talenti Se vuoi Nel rap Allora Intanto ti fa onore Il fatto che Tu ti metta lì E ascolti Con una grande passione Molto volentieri Tutti i ragazzi Che ti mandano le cose Ma Descrivici una giornata Tipo Il contest È stato La settimana scorsa O sono già Passate due settimane Forse È una concezione del tempo Semane E lì Insomma Ragazzi La giornata tipo Era Guardarsi 100 150 video Lo fai ancora Al centocinquantesimo A fine giornata Lo fai ancora Con passione Non capisci bene Tant'è che avevamo perso Anche un ragazzo Molto bravo Che si chiama Morbo De TDS Che segnaliamo Perché tra i vari Ha spiccato Esatto Non essendo migliore Ma giovanissimo C'era anche lui 16-17 anni È Molto bravo Gente che Scrive bene C'è anche un altro ragazzino Si chiama Musa Che è stato bravo E poi c'è Gente anche già Che conosciamo Come appunto Mastino Easy One C'è stato Dutch Dei Massimo Attacchenza Un gruppo Del Veneto Bravi Insomma C'è Gente che si è fatta Notare E gente che anche Conosciamo Qualcuno mi diceva Ma c'è qualcuno Che è troppo famoso Per partecipare al contest In realtà In realtà dico Guarda E' gente che ha fame Esattamente Come gli sconosciuti Perché Molto rap underground E' totalmente indipendente Nasce dagli sforzi Dalle camerette Dagli studi Nelle cantine Dei rappers Ma poi guarda E' bello che ci sia Ancora veramente Anche l'umiltà Di mettersi in gioco In questa maniera Cioè La fotta Dell'ippopio Io faccio questa roba qui Perché? Perché sì Eh ma lo spirito del contest È stato da subito Un contest diverso Dove non c'era innanzitutto La sfida one on one Le rime da battaglia Che ormai Ha stereotipato In maniera Quasi caricaturale Il fenomeno E' Dedicato proprio A chi scrive O a chi fa freestyle Nell'ottica di Intrattenere la gente Di trovare un legame Con la gente E' un Quindi si è creata Una cosa che A parte il contest E' come una specie Di grossa gem virtuale A cui possono partecipare Tutti Anche quelli Insomma Distanti Gente Tipo Psychopath Da Trieste Piuttosto che Dalla Sicilia Da tutto lo stivale In realtà Tra l'altro Si diceva prima Di quelli che Riescono a emergere In qualche modo Emergono La prossima traccia La mandiamo Tra uno di quelli Che è emersi maggiormente Dalla scorsa Edizione Il vincitore Il vincitore Dello scorso Capitan Futuro Lui è Lord Madness Detto Medi Detto È un nostro amico Gli vogliam bene Number one Ci andiamo ad ascoltare Uno dei suoi ultimi Singoli usciti Crazy Dal suo album Suicidio fallito Oh yeah Posso? Io sono una psichiatra Psichiatra E noi dicevamo E noi dicevamo Una voce Una voce conosciuta Un po' Dalla scena Invece Trist MC Era un po' Una gloria locale Di Palermo Esatto Non ce l'aspettavamo Che la gente Se ne accorgesse Abbiamo fatto uscire Il primo singolo Già Questa La primavera Dell'anno scorso Sintonizzati Con il video E tutto E poi abbiamo lavorato Già lavoravamo Insomma L'album E con calma Ce l'abbiamo fatta E soprattutto In una maniera Bella Ci si ritrovava Tra amici Quindi la squadra gira Esatto Per star bene Per divertirsi Scrivere le rime Fare i beat Come è giusto che sia Beh intanto Ricordiamo Per chi Se c'era qualcuno All'ascolto Che non conoscesse La formazione OTR Esatto La vecchia formazione Era molto più ampia C'era chiaramente La Pina C'era Insomma Fat Vez Che è proprio Un fondamentale Perché assieme a me Ha prodotto tutte le musiche Degli OTR Dalla sede Soprattutto Che è considerato Uno dei album culto Della storia Del rap italiano Fortunatamente Ringrazio Per questo onore qua E poi Esatto Con noi Adesso c'è DJ Vigor Che è degli OTR Della prima formazione E Polare Con il quale ho fatto Anche Gente Guasta Che è un altro Progetto culto Che abbiamo creato Nella fine degli anni 90 Che è piaciuto molto E per cui Niente E c'è DJ Schiso Con Alien Army Abbiamo collaborato molto Con Gente Guasta Quindi Schiso C'è di fisso Nella formazione Allora Polare Vigore E Schiso Noi adesso torniamo Invece sul tuo Ultimo disco United with Flow Ci andiamo ad ascoltare Chius quantizzato Di scarrafone Yeah Yes Scarrafone Tu Cacapa Non c'ha Fai chiù Dice scarrafone Non si sa Con chi ce l'ha Ma c'ha C'ha ragione Di fisso Noi abbiamo adorato Il pezzo Fin dal primo passaggio Insomma Per cui Supportiamo Ma dicevamo Invece In Fuori Onda Che tu hai Sei già all'attivo Con altri progetti In particolare Ne è uscito uno Che si può scaricare Sempre dal portale Che vi ho linkato Prima sulla nostra pagina Facebook Doppia H Streaming Ed è con Con Whiskeyman Parlaci un po' Insomma Di questo Intanto la domanda è Quando dormi La sera Visto che sei pieno Di progetti In realtà Esatto Facciamo tanta musica Ci concentriamo Proprio sulla produzione Musicale In continuazione E Facciamo Faccio E poi Ho la fortuna Di appunto Poter coinvolgere Amici di vecchia data E tanti amici nuovi Tra i quali Gli Olio Bollente E avevo già fatto Un EP Dove producevo i beat Repava Stoma Che è molto bravo Che è sempre uno Di questi ragazzi Di questa crue di Monza Numerosa Dove Sono tanti e bravi E adesso abbiamo fatto Un altro EP Con uno dei più giovani Che è Whiskey Che fa la maturità Quest'anno Per cui molto giovane Abbiamo unito Così un po' Esatto La freschezza Delle nuove leve Con la mentalità giusta E magari appunto Il fatto di aver fatto i beat Io spero che abbia portato Un po' più di ricerca musicale Che è quella che spero Posso portare io Così come i producer Che suonano Da almeno 15-20 anni Come ricerca musicale Magari esatto C'è qualcosa di più innovativo L'EP si chiama Il fanciullino E si scarica da Captain Futuro Bandcamp Ecco Stavo per chiederti appunto Ve lo linko di nuovo Vi linko il fanciullino Sulla nostra fanpage Dai dai Che se lo merita Whiskey E poi secondo me L'EP è bello Cinque tracce belle Più anche delle strumentali Una traccia con tutta la crue Degli olio bollenti Che sono come i Wu-Tang Sono 9000 A proposito di Wu-Tang Ce l'hai servita sul piatto d'argento Come non ricordare Che saranno in Italia Il 13 luglio All'ipodromo Che adesso si chiama City Sound Se non sbaglio Di Milano Noi tre ci saremo tutti Noi ci saremo difficile E spero ci saranno altre migliaia Di tre persone Di tre persone Venite a tre a tre Venite a tre a tre L'importante è quello No allora intanto ESA ESA con Capitan Futuro Proiettato nel futuro ESA che insomma Rappresenta anche la storia Porta avanti Il progetto TR In qualche modo Proiettato in 200.000 cose Anche con questi Giovani elementi degli olio bollente Sempre in mezzo all'hip hop Ma ESA Quando non ascolta hip hop Cosa ascolta tendenzialmente Lo diciamo Bob Marley Kaya Now per esempio Perché hai scelto Questo pezzo Ah ok Visto che mettevamo Un pezzo non hip hop Comunque prediligo Tra le varie Reggae Perché reggae Un po' il papà Dell'hip hop E poi vabbè Bob Marley Penso che sia un profeta Di base Che supera tutti i generi Che piace a tutti Rocchettaria Tutti quanti Piace a Bob Tu prima di ascoltare hip hop Ascoltavi reggae? Eh guarda Io prima di ascoltare hip hop Mi sa che ascoltavo hip hop Perché non sei stato Così Sono arrivato In contemporanea Con le cose Però ascoltare hip hop Vuol dire ascoltare Tutta la musica Eh Perché è fatto da Furti conclamati E nascosti Di musiche E in casa tua Cosa si ascoltava Tendenzialmente? Perché poi siete una famiglia Tutta molto coerente Tre fratelli Impegnati un po' Nella stessa causa Quindi ci viene da pensare Che ci fosse qualcosa Prima di voi Che vi ha in qualche modo Aiutato Il mio papà ascoltava Tanto jazz I dischi di James Brown Che abbiamo noi Nella nostra discografia Sono del papà E Ascoltava appunto Da James Brown Al jazz Tenonius Monk Il treno Tutti questi dischi qua Che poi abbiamo recuperato noi E anche Pino Daniele Per esempio Che spaccava Ma sai quanto spacca? Sai quanti cd Sono di Pino Daniele Alla George Benson Le grande Bene noi allora Intanto ringrazio Facciamo tutti Più grossi big up A tuo papà Che ha iniettato Il giusto germe Il giusto germe Famiglia E poi ci ascoltiamo Bob Marley Yeah Kaya now Un po' di preso benismo Trasmessoci Dal buon Bob Tutta la vita Ci vuole Ci vuole Dunque noi Torniamo a noi Adesso abbiamo un momento A cui io e Matteo Siamo molto legati Si chiama Open Mic E' lo spazio che Doppia H da Ai ragazzi che ci scrivono A doppia punto H Chiocciola Radiopopolare punto it Ragazzi più o meno Emergenti Anche a noi Hanno scritto nomi Che in realtà Si sentivano già Gli abbiamo dato Spazio molto volentieri Quindi invitiamo Chiunque fosse all'ascolto A scriverci Se noi possiamo Lo facciamo molto volentieri L'emergente Che abbiamo scelto Questa sera Una ragazza Donna Si chiama Nora E barese No se non sbaglio E barese di origine Si è trasferita Prima a Roma Poi a Milano Dove ha continuato A cercare Di infilarsi In compagnie Che seguissero L'hip hop Ha iniziato A rappare Secondo Chi è intorno E brava Ci ha spedito Come al solito La sua bio Con un po' di brani E a noi è piaciuta molto Piaciuta molto Adesso ti vorrei chiedere Una cosa Vorrei chiedere una cosa Al nostro ospite Di questa sera ESA Visto che tu Ascolti molto E ti piace molto Ascoltare Ascoltatela attentamente E dopo ci fai tu Un po' una recensione Grande Nora Vai a priori Perché ci sono comunque Poche signorine Che rappano Invece ragazze Rappate Rappate delle cose belle Rappateci dei punti di vista Nuovi Che ne abbiamo bisogno Sennò si sentono sempre Le solite cose Sì sì E allora questo È solo uno sfogo E lei è Nora Solo uno sfogo Semplice me Eh Un bello schiaffo Questo qua Della Nora E vai Nora Yes Ma allora Ti è piaciuta? Guarda Come ho detto prima In generale È viva Che ci siano delle signorine Che si mettono a fare il rap Mi è piaciuto Anche lei Infatti È una prospettiva diversa Si sente Ha una bella voce Poi insomma Se finita a lavorare Con Wesh Con gli edk Vuol dire che ne ha La sentiremo Esatto Già i ragazzi Esatto Se l'han tirata in mezzo È perché ha valore Infatti si sente Grande Oh comunque Big up No La big up a tutte le sista Fate tante rime Tutti i giorni Che prende bene Yes C'è qualche donna Del momento Che ti piace Un po' Come si sta muovendo Le cose che sta facendo In ambito rap Ovviamente Hip hop Ci sono state delle pischelle Anche brave Nel vecchio contest Di Captain Futuro C'era una ragazza C'era una ragazza Che aveva rappato Con Lord Madness Piuttosto che C'era una pischella Nuova a Calabresi Che è forte Che rappa Con No Bridge Che è sempre uno Dei Green Tigers Il collettivo Di rapper Che ho fondato E poi Ci salutiamo La Luna Che è Lupluna Che è la signorina Più in vista Al momento Merita di sicuro Ecco Ci uniamo la salute Viene dai Da donna Cru fortissima Di giù Che Insomma Annovera Anche Le Mare Che è considerato Uno dei Più bravi Dei bravi Rapper Italiani Insomma Meritatamente E quindi Big up anche Alla Luna Veramente Bene Dovessimo chiedere In chiusura Visto che siamo Più o meno Appunto Quasi al momento Dei saluti Un messaggio A chi si avvicina Oggi Al rap italiano Da ESA Ah Bene Grande Infatti Guarda Se vuoi scrivere Le rime Scrivene tante Differenzare Molto Fallo spesso Questo è Il mio consiglio Che penso Che sia la cosa Più bella Perché la gente Che scrive Le rime E gente Che Ci appassiona Di riempire Sti quadernoni Di testi Fatelo Perché è importante A maggior ragione Se poi vi capita Professionalmente Di poter realizzare Un disco Almeno avete Tante idee Su cui scegliere Insomma La ricerca È quella che Differenzia Un po' La qualità Degli MC's Perché hanno Diciamo un po' Una rima Per ogni Per ogni Evenienza Allora Esa Che dire Noi intanto Ti ringraziamo Di essere stato Nostro ospite Negli studi Radio Popolare Grazie a voi ragazzi Mi sono scialato Spero di Venirvi a trovare Presto Con tante novità Con tante novità